Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi è il giorno seguente a quella che è stata una partita, il 3-0 Juventus-Valve Madrid, in cui la Juventus ha ceduto il passo a Real Madrid prendendo 3 gol in casa contro i madrilegni. Una partita che ha messo in confusione, secondo me, tutti quanti, tutti, me, voi, tutti quanti. Credo che però dopo 24 ore, quasi 24 ore, comunque dopo una notte è passata dormendo e cercano di rilaborare un po' i pensieri. Quindi si sia arrivato un momento in cui si deve fare un po' di comprensione di quello che è successo, di ordine mentale, capire come abbiamo giocato noi, come abbiamo giocato loro, perché sono arrivati certi gol. In particolare, chiaramente ci soffermiamo sul primo gol, perché parliamoci chiaro, il secondo gol, quello di Ronaldo, quello bellissimo, nasce tutto in una cosa molto semplice, che è l'incomprensione che c'è tra Buffon e Chiellini, che porta poi a un cambio di gioco un po' particolare e una giocata stupenda di Ronaldo. Tolto quel gol, che c'è molto merito di Ronaldo, anche se c'è molto anche lì di merito nostro, il terzo gol è il gol di finimento, quello che non conta mai nulla, un po' il 4-1 di Asensio in finale, un po' il 3-1 in finale due anni prima contro Barcellona, sono quei gol che non contano nulla. Tutto nasce sul primo gol, anche le difficoltà dopo di recuperare un risultato negativo, tutto però nasce anche da un fatto che ieri, alla fine, gli episodi sono contati molto di più di quella che è stata la partita, la gestione di una partita in 90 minuti. Intanto ringrazio, come sempre, il mondo calcistico che, in modo molto oggettivo, molto analitico, riesce a fare queste analisi tattiche, andando al di là di quelle che sono un po' le sensazioni del momento. Ho capito molte cose, in più di quello che in realtà avevo compreso ieri, anche se qualcosa in realtà ero riuscito un po' a comprenderlo, perché quando ho detto, nel mio video post partita, anche molto a callo, che la Juventus aveva anche gestito molto bene la partita, più del Real, in effetti non mi sbagliavo, e andremo a vedere perché. Lo faremo però, chiaramente, dopo la sigla. Allora, parliamoci chiaro. È una cosa che io porto avanti, anch'io, oltre al mondo calcistico, ma la condivido a prescindere da quello che dicono loro, cioè che in realtà il 4-3-3 puro non c'è mai stato con Allegri, ma è sempre stato un 4-4-2, che però viene talvolta interpretato diversamente a seconda di chi mette in campo. Siamo abituati a un 4-4-2, potete pensare, chiamatelo 4-4-2 o 4-2-3-1 con i due sterling che vanno giù, è un po' indifferente in realtà. Possiamo chiamarlo anche 4-4-1-1 con Di Balla dietro ai Guain. Possiamo chiamarlo in tanti modi, però è anche vero che quello che si è visto ieri è molto simile a quello che si è visto contro Napoli. Lì c'era Matuidi come esterno a sinistra, ieri c'era invece Alexandro. La scelta è semplicemente spiegarsi così, Matuidi è buono per un tipo di gioco, Alexandro molto meglio per un possesso palla, perché la tecnica di Alexandro, in realtà è superiore con Matuidi, produrna il gira a palla. Sono scelte tattiche, non sappiamo perché Allegri le abbia fatte, così come perché Allegri abbia fatto la scelta di mettere Barzagli piuttosto che Rugani, Bentancur al posto di Matuidi stesso, Marchiso, quello che è. Le ha fatte, nel caso di Bentancur si è visto giusto, nel caso di Barzagli, Ni. Detto questo, partiamo con ordine. Ha fatto scorrere già le immagini di quelle che sono state le azioni con Napoli, per vedere quello che è stato molto simile tra una partita e l'altra. Quella con Napoli l'hanno vinta, quella con Real no. Però la situazione in questo caso, in cui c'è appunto una situazione di difesa, un 4-4-2 puro, che poi in realtà viene sviluppato molto similmente anche in fase offensiva. Detto questo, ognuno può dire i numeri che si vuole, ma alla fine l'interpretazione dei giocatori è quella che rende una partita in un modo o in un altro. Perché Alexander Matuidi e Manzuki se stesso fanno dei giochi completamente diversi. Possono mettersi nella stessa posizione, ma faranno sempre un gioco diverso, che farà anche cambiare un po' il destino e un po' il giro a vagare della palla. Detto questo, partiamo da quella che è un 4-4-2 così, e andiamo a vedere com'è arrivato il primo gol, anche per capire quello che in realtà era il Madrid. Il Real Madrid ha giocato tale e quale a noi. Il Real Madrid è una cosa forse pesante, però state bene a seguire per evitare l'aggiornamento. Zidane non è un rivoluzionario, tanti clicchi con Allegri perché mette in campo un 4-4-2, perché questo e perché quello. Zidane ha fatto la stessa cosa e ha fatto rendere una squadra che ha dei campioni molto più forti dei nostri, peggio della nostra. Ieri c'era in campo Bentancur e Chedira. Bentancur è ancora giovane, non possiamo paragonarlo ai giocatori, ai centrocampisti del Real Madrid. Lo sarà magari, a quei livelli da qualche anno, ma non lo è. Chedira ha giocato molto bene, e forse secondo me è a quei livelli dei grandi centrocampisti europei, anche se ultimamente non si giocano bene mediamente in questa ragione. però ovviamente la Juventus, anche Alexandro a sinistra, non è di certo Isco, che ha giocato a sinistra come Alexandro. Hanno Marsello e non hanno Massamo A, rispetto per Massamo A, ma non è Marsello. A destra avevano Modric, sinaturato come un peggio esterno. Noi avevamo un drag la scosta, praticamente. E lì ovviamente forse la scosta interpreta in modo diverso sicuramente da Modric. Modric sappiamo chi è. Carvacal non gli sciglio, si è giocato benissimo, è quello che volete. Ramos e Varane, che hanno giocato molto bene, hanno tenuto molto bene la difesa, visto che la Juventus è andata in rete. Davanti però la differenza è abbastanza abissale, non tanto per Benzema quanto per Ronaldo, e si è visto cosa ha fatto. Però in realtà il 4-4-2 del Real Madrid è molto simile a quello del Juve. C'è a dire che però, e poi vedremo anche bene, il centrocampo del Real Madrid, per quanto forte sia, non viene secondo noi sfruttato al pieno. Cioè, un centrocampo del genere, sfruttato in quel modo là, è veramente buttar via talento. Ci lamentiamo sempre degli alleghi come snaturi, dei giocatori, talvolta però snaturi giocatori anche che sono di livello più basso, penso Sturaro, penso anche Matuidi rispetto a questi qua. Quello che volete, ma in questo caso si danno dei limiti anche nella gestione della palla. Puntare a una gestione della palla come l'ha fatto lui, con un centrocampo in modo statico, è limitativo per quello che poi è il talento di quella squadra là. È una critica, certamente non si vede una partita persa 3-0, ma questo va a ribadire che il 3-0 è arrivato per episodi. Il primo è un errore, Grosolano lo vedremo dopo, il secondo un altro errore, e il terzo, gol che non comprendo mai molto. Diciamo che non è che il Real Madrid abbia ottenuto quel risultato per delle giocate, per una gestione della palla completa e totalizzante, un po' come quella che era il Tiki Taka di Guardiola. L'ha ottenuto grazie ai campioni, che è la differenza sostanziale che c'è tra noi loro. Loro sono più forti come livello tasso tecnico, ma alla fine in campo non hanno fatto vedere chissà grandi cose, o meglio, non hanno permesso alla squadra di gestire la palla in un modo a livello di quello che è il talento proprio di questi giocatori. Quindi, rivediamo sempre questa cosa qua. La Juventus, nonostante mantenersi questo 4-4-2, che poi uno può intenere come vuole, ha fatto una gestione della palla molto più interessante, tanto che è vero quando diciamo che la Juventus ha gestito la palla, tanto che il centrocampo del Madrid, per quanto riguarda la gestione della palla, non ha fatto vedere numeri eclatanti rispetto a quello che poi uno può pensare, visto che hai Kroos, Modric e Casemiro, cioè giocatori di tutto rispetto. Però, evidentemente, non è così. Stessa cosa per Isco, che è stato praticamente messo come esterno, pur essendo un trequartista, sostanzialmente. Questa è una fase in cui, ad esempio, Chiellini si sposta alla difesa per andare a incrociare su Modric. Qui siamo molto, molto vicino a quelli che poi saranno altri gioi lupi, qui il gol è già successo, però in realtà è questo per vedere come poi in fase difensiva l'Iventus aveva sempre fatto molto bene, tranne quei due casi che poi abbiamo conosciuto, ma come il centrocampo del Madrid, poi vedremo meglio, nel primo gol, paradossalmente sia molto statico, nonostante appunto il talento sia molto. Qui siamo in pressionità del gol. Come vedete c'è Marcello Isco sulla sinistra, come ho detto prima, in questo caso va in aiuto anche Kroos. Per ora tutto bene, veramente tutto bene, perché non c'è nessun, niente di sbagliato. Ecco che Marcello cerca di essere chiuso da De Sciglio, poi verrà chiuso, infatti poi nel seguente vedremo l'elettropassaggio della palla, con D'Agras Costa che è mai in aiuto. Bentancun inizia a scalare un po' indietro, e qui siete affattenti perché qua c'è molto di quello che avverrà dopo. La palla torna indietro, come vedete il centrocampo del Real Madrid è ancora molto statico, Modric è sempre nella stessa posizione. Tutti i giocatori non si muovono senza palla, cercano solo di passarsi da di loro e cercare varianti. Questo gol qua è arrivato solo perché poi noi, vedremo come, abbiamo sbagliato qualcosa, non tanto perché il Real Madrid è stato bravo a trovare questo gol, tranne quello che è stato poi il guiso finale di Ronaldo, che chiaramente è un giocatore a parte. Tanto che qua la palla torna addirittura indietro, questo perché non c'erano spazi, perché la Juventus in quel momento stava chiudendo perfettamente tutti i buchi possibili. Ecco che però Isco, il campione, inizia a fare un movimento che poi recarerà non pochi danni. D'Agras Costa indica a Bentancur, seguilo. Bentancur, insomma, inizia a seguirlo. In realtà lo segue, ma anche troppo. Qui la palla torna ancora indietro, Marcella è andata indietro, Isco resta in quella posizione in cui si è rinserito. Bentancur, come vedete, non è che stia proprio seguendo, appunto, Isco, è un po' sul chi va là, cosa che in realtà porterà a non pochi danni. Ecco, Bentancur qui sbaglia. Il discorso di De Sciglio e D'Agras Costa era perfetto, perché D'Agras Costa ha prima indicato a Bentancur di andare su Isco, cosa dovrà fare? Cioè, rimanerci, inizia a che Isco non è che si era ritirato indietro, è rimasto là, sul filo del fuorigioco, cercando poi la pallonamente. Cosa che troverà? Bentancur lascia spazio, ed è qua il primo errore, e non è neanche l'unico. Andiamo a vedere quello che succede in mezzo all'area. Qua l'errore, sì, c'è di Barzagli, però poi c'è anche una furbata di Benzema che fa una specie di blocco. Chiellini si accorgerà dopo di questa cosa qua, dicendo poi a Barzagli, guarda, deve andare attento a Ronaldo, nel senso che Benzema praticamente è inutile, è inocchio in quel momento là, però ovviamente è il furbo, Benzema molto bravo, lui e Ronaldo, a sfruttare questa occasione qua, dopo l'errore prima di Metancur su Isco, che poi porterà al gol. Quei momenti in cui Chiellini si accorge, appunto c'è Barzagli che sta prendendo Benzema, che praticamente è inutile lì per l'area Madrid, e inizia il movimento di Ronaldo. Ronaldo è un fenomeno, legge queste cose, non bisogna mai lasciare spazio a Ronaldo, Ronaldo è tutta la difesa della Juve, è difendente della zona, pertanto in quel caso qualcuno ha dato a mollarsi, a seguire a Duomo Ronaldo, un po' come ho visto prima, con che dire che va in supporto alla difesa, per chiudere appunto Ronaldo. Ronaldo non va mai lasciato solo, se te togli spazio a Ronaldo, Ronaldo si può rendere in occhio, se te lasci spazio come in questo caso, gol. E infatti, eccolo qua, Benzema ha funzionato come ha fatto Benzema, perché ci sono praticamente due difensori, coperti da Benzema, che fa un po' una specie di blocco, e Ronaldo, bravissimo a trovare ovviamente l'altegonale, diciamo che l'inserimento non è che sia una banalità, cioè si è inserito un giocatore libero, perché non ha marcato nessuno, poi è stato bravo a metterlo in porta, chiaramente non tutti avrebbero fatto una cosa del genere, perché qualcuno si potrebbe spaccare il legamento, lui no perché è Ronaldo, però chiaramente l'inserimento che ha fatto, non è che sia stato una cosa chissà che, l'errore nostro è stato quello di abboccare, a quella che è stata la trappola di Benzema. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questa partita, è stato difficile comprendere appieno, perché poi a caldo si dicono troppe cose, andando a vedere abbiamo perso una grandissima occasione di far bene, perché noi siamo ovviamente inferiori dalla Madrid, però è anche vero che al netto di quegli errori sarebbe stata un'impresa, gli anni scorsi quando abbiamo eliminato la Madrid, eliminato il Barcellona e quasi quasi ce la giochiamo col Bayern Monaco, non abbiamo pagato, tra l'altro con il Bayern Monaco appunto, per gli scorsi errori. Di dove ci sono stati degli errori, il famoso Evra Spazzala, abbiamo pagato, di dove non ci sono stati mai errori, perché il Madrid l'anno prima e l'ultimo anno appunto il Barcellona, siamo passati, perché le imprese riusciamo a farle, in quanto Juventus, perché non siamo forti come loro, ma le squadre un po' più inferiori possono battere quelle più forti e facendo imprese, cioè non sbagliando nulla, cosa difficilissima per quanto riguarda una match del genere, la Juve può farlo, perché è forte anche, perché comunque ha sempre avuto fame, ed è una squadra con una grande, insomma, c'è due palle così, alcuni giocatori bisogna dirlo, però quando dai l'occasione a una squadra come la Madrid, Barcellona, quello che è, di fare una sola cosa, perché sbagli una sola cosa, loro ti puniscono, è un po' quello che succede con noi, con il Benevento, se il Benevento concede l'errore, noi puniamo, ovviamente con i dovuti rapporti, succede anche questo in Europa, quindi ragazzi, dispiace, la speranza è l'ultima a morire, vedremo cosa succederà, sicuramente, poi la verità è che, siamo più fuori che dentro, vedremo, lasciamo parlare il campo, sperando che i giocatori, i nostri giocatori, non sbaglino nulla, e facciano il 120-130% rispetto a quello, che hanno fatto ieri, forza di via come sempre, e alla prossima, ciao! Paura 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 Paura